Questa, che doveva essere semplicemente una manifestazione di territorio romano e laziale, grazie a voi e alla vostra solidarietà è diventata una manifestazione nazionale. Venerdì scorso, venerdì scorso, dove non trapela nulla all'esterno e dove all'interno si difendono e si puntellano un l'altro. La cricca è stata pacificata e dietro questa pacificazione prova ad attaccare i diritti dei lavoratori e il ruolo del sindacato, ma noi non glielo consentiremo. E li aspetteremo, cari colleghi, quando avranno bisogno di noi per accordi importanti per l'azienda. E li aspetteremo al barco quando avranno bisogno di noi per le ristrutturazioni che dovranno fare. E ogni qualvolta, se proveranno ancora a fare accordi minoritari con quei due vicini, noi glieli faremo bucciare dai lavoratori. Il numero di chi noi per le ristrutturazioni che dovranno fare. Ehi! Il numero di chi noi per le ristrutturazioni che dovranno fare. Ese non è... Ese anno in... Ese... ...'Cuando ti ho avranno bisogno di noi per le ristrutturazioni che dovranno dare. Sì se avrò ce quindi non è... Ese anno in... di campioni e di lacrime e preghie e di lacrime 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 e di lacrime